Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. Si è tenuta recentemente a Pola una conferenza incentrata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione organizzata dall'associazione ICT Istria. Vediamo i dettagli. Esperti ed innovatori dell'industria ICT riuniti a Pola alla conferenza Let's Grow, con lo scopo di promuovere l'Istria come destinazione ideale per lo sviluppo delle attività ICT. Questa conferenza è prima di questo tipo in Istria, è una conferenza dove ci siamo uniti 25 aziende informatiche. In Istria siamo in totale su numero di 200, ma quelli più grandi siamo adesso uniti in un'associazione ICT Istria. Le persone non capiscono ancora con chi stiamo lavorando, chi siamo, cosa significa, cosa vogliamo fare. E' proprio per questo che praticamente dobbiamo cominciare da quelli più piccoli, mostrarvi quelli piccoli robot, mostrarvi tutte le tecnologie, che tutti gli appassionati dell'informatica arriveranno là e vedranno cosa vogliamo offrire. Dai lavoratori interattivi alle tavole rotonde. Alla conferenza hanno partecipato più di 50 esperti del settore. Tra gli esperti anche i nostri unicorni, le aziende InfoBip e Rimas Automobili. Abbiamo anche chiamato tante persone importanti in settore, uno di quali è Isabel Jelenic, che è uno co-founder, possiamo dire, di InfoBip. Ci sono altri qua, di Artificial Intelligence, Heidi Chennan, Davor Rugne. Ci sono qua anche le persone che rappresentano i Rimas Automobili, che mostreranno ai giovani cosa vuol dire lavorare in un'azienda così professionale, un'azienda nuova, con diverse tecnologie. e praticamente vogliamo mostrare ai giovani che è importante andare in questa direzione, imparare informatica, amare informatica e provare a trovare se stesso in questo ambito. L'incremento della richiesta di forza lavoro nel settore dell'ICT è oggi una delle tendenze più rilevanti nel mercato occupazionale. Secondo uno studio di Eurostat, i lavori del settore ICT in Europa sono 8,4 milioni. Di questi, quasi 2 milioni appartengono alla sola Germania, che rappresenta il mercato di riferimento nel continente, impiegando il 23% dell'intera forza lavoro attiva nel comparto, seguita da Francia con più di 1 milione e Italia con 0,8 milioni. Negli ultimi 10 anni, il numero di specialisti ICT impiegati dalle aziende europee è cresciuto del 50%, un dato nove volte superiore alla crescita occupazionale complessiva. Qui in Istria posso dire che sicuramente siamo messi bene, posso dire che questo si vede con il nostro primo unicorno di Infobip, che tutte le altre aziende lo seguono, posso dire così. Anzitutto, prima parliamo di Zagabria, che è un punto di riferimento in Croazia perché è la città più grande, ma dobbiamo dire che l'Istria lo segue subito. La nostra regione può vantarsi di 280 aziende che operano nel settore ICT, con 2.500 professionisti altamente qualificati. A proposito del livello di istruzione, è un'occupazione in cui la maggior parte della forza lavoro è altamente qualificata. Secondo le ricerche, nel 2018 il 71% dei professionisti ICT aveva una qualifica di alto livello e si prevede che salirà al 74% nel 2030. Un quarto della forza lavoro aveva qualifiche di livello medio nel 2018 e questo rimarrà più o meno invariato per attestarsi al 23% nel 2030. Ingegnere informatico, sviluppatore software, grafico, web designer, data analyst, responsabile aziendale IT. Sono queste le professioni più ricercate dalle aziende nel settore ICT. Quello che attira i giovani è anche la busta paga. In Croazia lo stipendio medio aggira attorno alle 8.000 cune. Tante aziende nostre hanno tanti dipendenti che arrivano da tutte le altre parti, ma non solo quello, ma anche quelli che vogliono lavorare qua anche per se stesso, come nomadi, come aprire nuove aziende. Noi siamo qua disposti per aiutare anche queste aziende. Istria è qua che può offrire una vita completa, come lo diciamo noi. Come vedete qua scrive win-win, che vuol dire puoi vincere sulla vita professionale, ma puoi vincere anche sulla vita privata. Cioè dopo quando finisci il lavoro, lavorare in questo bellissimo ambito, puoi andare al mare e praticamente puoi goderci la vita con la tua famiglia. Con la stesura dell'asfalto sulle strade delle vie Mandracchio-Porporella e passaggio Venezia-Cittanova, sono stati portati a termine i lavori della prima fase di ricostruzione e costruzione del sistema fognario, del sistema di drenaggio delle acque meteoriche e della rete idrica del centro storico. Vediamo i dettagli. Sono stati realizzati 946 metri di rete fognaria, 260 metri di canalizzazione per le acque meteoriche e 233 metri di rete idrica. A Cittanova abbiamo appena terminato la prima fase di questo grande progetto che coinvolge anche il comune di Verteneglio e che infine avrà il scopo di purificare le acque di canalizzazione al livello massimo con la costruzione del nuovo impianto nella zona di Pineta. In questo momento abbiamo terminato la prima fase che coinvolge la rete fognaria e la rete idrica e quello che è importante dire è che a parte le infrastrutture sotterranee questo progetto vuole anche portare una nuova qualità della pavimentazione della città storica di Cittanova. Dopo l'apertura al traffico delle strade di via Mandracchio, Porporella e Passaggio Venezia, pavimentate a tutta larghezza, adesso si prosegue con la sistemazione finale del pavimento di parte delle vie Strada Grande, via Squero e via della Pescheria. L'inizio della seconda fase dei lavori, che copre l'area da Piazza Grande e via delle Porte, inizierà dopo la stagione turistica, verso la metà di ottobre. Il punto chiave sarà questo inverno quando la Piazza Grande, il punto più importante della città, verrà pavimentato con la pietra e sicuramente porterà una nuova luce a tutta la città. Si tratta di un investimento plurienale, ampio e impegnativo, sottolinea Milos, un investimento che migliorerà notevolmente il sistema delle acque reflue nel centro storico di Cittanova, ma anche di alcuni altri abitati, nonché nel comprensorio del comune di Verteneglio. I lavori, iniziati ad ottobre dell'anno scorso, verranno eseguiti per fasi. La ricostruzione prevede un completo rifacimento della rete fognaria per una lunghezza di 2.400 metri, costruzione e ricostruzione della rete idrica della lunghezza di 1.270 metri e la realizzazione di una rete di drenaggio per l'acqua piovana lunga 1.340 metri. Il valore del progetto ammonta quasi 69 milioni di cune, coperti dai fondi europei, dalla città di Cittanova e dall'Istersky Vodovot-Pinguente. Oltre ai lavori nel centro storico e all'aggiunta di depuratori, aggiunge il sindaco, questo progetto comprende anche la costruzione della canalizzazione fognaria negli abitati cittanovesi di Stanza Brusada e Velle Braide, ovvero San Servolo. I lavori in quest'area sono stati completati e, nell'ambito di questa parte dell'investimento, sono stati realizzati un totale di circa 1.300 metri di collettore fecale con 58 lacciamenti domestici. A dicembre dello scorso anno sono iniziati i lavori per l'amodernamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue, un investimento infrastrutturale del valore di quasi 80 milioni di cune, che sarà terminato nel 2024. L'anno scolastico 2021-2022 è addirittura d'arrivo. È stato un anno didattico caratterizzato da alti e bassi per molte istituzioni scolastiche, comprese quelle del gruppo nazionale italiano. Presso la scuola italiana più grande in Croazia, la polese Giuseppina Martinuzzi ci si è adattati bene. Oltre ad esserci informati sull'andamento dell'anno scolastico, abbiamo voluto sapere di più sull'attività dell'istituzione. Questa è una bella panca fatta degli alunni dietro le istruzioni di vali ed insegnanti. Oltre ad essere bella, è anche coloratissima, ma soprattutto utile. Funge da spazio attesa davanti alla direzione. Questo invece è l'inventario della nonna, un progetto di recupero delle tradizioni del territorio che si avvale di una nota ecologica. Dice infatti no ai sacchetti di plastica. Anche qui la creatività è rigorosamente all'ordine del giorno. E che dire delle tante coppe e riconoscimenti sportivi sparsi per la scuola? Queste vetrine infatti ne contengono solo una parte. Un anno scolastico che volge piano piano verso la sua fine, questo ma un anno scolastico che ha nuovamente messo a prova alunni e insegnanti. Una volta sparite le misure anti-covid, misure che stiamo già dimenticando, va detto che il 2021-22, in special modo in una scuola grande come questa, ha fatto scattare protocolli impegnativi connessi in primo luogo con gli spazi didattici e le misure cautelative. Ma cominciamo con quella che abbiamo definito una radiografia della scuola. Per quanto riguarda il numero degli alunni, noi quest'anno scolastico siamo sui 440 alunni, naturalmente distribuiti in tre sezioni, quindi la scuola centrale, la scuola periferica di Galesano e la sezione periferica di Sisano. Qui a Pola siamo distribuiti in tantissime sezioni, perché ogni classe ha in definitiva due parallele, però sia in quinta che in ottava abbiamo ben tre classi. Qui traspara anche il primo problema dell'istituzione, ovvero quello dello spazio. Come continuato dalla preside CERLON, ci si sta muovendo presso le apposite istituzioni, come presso il fondatore della scuola, dunque il municipio polese, affinché in futuro lo spazio dedito all'attività didattica sia sufficiente. Ma ora andiamo in seconda A. Durante la nostra permanenza a scuola non abbiamo voluto disturbare le lezioni oltremodo. Diciamo che i ragazzi sono risultati interessati alle nostre domande, attenti e preparati. Tra non molto questi ragazzi saranno in terza classe e per fortuna qui lo spazio non manca, come invece in altre parti della scuola. Noi abbiamo problemi di spazio, ma il che ci ha reso ancora più interessante è l'organizzazione. Ci siamo riusciti, davvero l'organizzazione tecnica e degli orari di lezione ha visto solo quest'anno la buona volontà degli insegnanti di rinunciare alla sala insegnanti per trasformarla in un'aula per gli alunni. Quindi qui non ci sono stati davvero alcune difficoltà. Ormai era il terzo anno di insegnamento con il Covid, perciò possiamo dire che siamo degli esperti. Gli alunni sono stati fieri di presentarci una serie di lavori su carta dedicati sempre al recupero istituzionale delle tradizioni. Ecco una carrellata di disegni in merito che i autori delle classi inferiori hanno fatto quadrato attorno all'instancabile insegnante Rosanna Biasolbabic, onde dare vita ad un gruppo di studio del territorio coadiuvato dalla regione istriana. Gli alunni erano quelli della prima classe e hanno prodotto le borse di tela che abbiamo visto in apertura con le quali... Con le quali quest'anno presenteremo la nostra scuola all'incontro, al festival organizzato dalla regione istriana per lo studio del territorio. Quelli che abbiamo visto uscire erano gli alunni di una delle ottave classi, mentre l'attimo era quello più atteso, ovviamente il riposo. Inutile dire che faremo ancora volentieri tappa in questa scuola, contando sul fatto che gli anni scolastici diventino sempre migliori per alunni, insegnanti e naturalmente per i genitori. Il progetto Evertici, E-Asile Nido, è un progetto unico nel lavoro dell'autogoverno locale che è stato implementato a Pola dieci anni fa. Pola è stata la prima città in Croazia a partire con questo progetto, nel desiderio di collegare tutti gli asili nido cittadini e privati con un moderno sistema informativo. All'epoca, a capo dell'assessorato alle attività sociali della città di Pola c'era Elena Puch-Belci, che è anche autrice e promotrice del pluripremiato progetto. Questo argomento è diventato di nuovo attuale per il fatto che questo servizio di registrazione elettronica è diventato recentemente disponibile anche su E-Gragiani. I nostri genitori non dovevano andare al Ministero degli Interni per i documenti, ma tutto era praticabile attraverso il numero di identificazione personale OIB da dove si prendevano tutte le informazioni. Oggi sembra una cosa normale, ma dieci anni fa non era così e noi eravamo gli unici che funzionavamo in questo modo. Due anni fa la città di Pola è stata contattata dal Ministero dell'Amministrazione, dall'Ufficio Centrale dello Stato per lo Sviluppo della Società Digitale, da Carnet e dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione che volevano riprendere questo innovativo modello di iscrizione. Noi abbiamo insistito e motivato i nostri asili nido a entrare in questo progetto. Degli 800 asili nido in Croazia, in questo periodo sono 160 gli asili nido che entreranno nel progetto di iscrizione elettronica. Non sarà più necessario rilasciare vari certificati per registrare un figlio, come il certificato di nascita del bambino o il certificato di lavoro, ma il sistema ritirerà queste informazioni dai registri competenti degli organi statali. La nuova app prende tutti i dati necessari dalle banche dati dello Stato, come per esempio l'Istituto di Previdenza, l'Ufficio del Registro, lo Stato di invalidità, lo status di veterano di guerra o sussidi per figli. L'assistenza per l'uso di questo sistema verrà fornita attraverso gli asili nido, dove i genitori verranno assistiti dal personale istruito e con il supporto di Carnet. L'elenco completo degli asili nido partecipanti al progetto, dopo la registrazione dei genitori, è disponibile sul sito web del sistema EUPC. Il termine entro il quale i genitori possono presentare la domanda di iscrizione del proprio bambino è comunicato dagli stessi asili nido negli inviti di iscrizione. Presso il complesso monasteriale dedicato a San Francesco d'Assisi a Pola ha avuto luogo la presentazione del lavoro di ricerca il complesso francescano di Pola, genesi e sviluppo architettonico dal XIII al XX secolo, del rinomato architetto di Pola, Atilio Crismanic. Si è spento Atilio Crismanic, il famoso architetto urbanista, ricercatore e storico dell'architettura originario di Pola. Se ne è andato, una settimana prima del ritiro del meritevole premio Città di Pola e della presentazione del suo libro intitolato Il complesso francescano, genesi e sviluppo architettonico dal XIII al XX secolo, edito dal Centro di ricerche storiche di Rovigno col concorso dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste. E qual è il miglior modo di onorare la sua memoria se non presentando il suo libro e ricordare la sua vita e il patrimonio storico polese che ha regalato alla sua città. Per questa occasione, il Centro di ricerche storico di Rovigno ha organizzato presso la chiesa di San Francesco d'Assisi a Pola la cerimonia di presentazione del suo lavoro di ricerca. Con questa cerimonia, il Centro di ricerche di Rovigno vuole commemorare il ricordo di Atilio Crismanic, con la quale ha avuto sempre una sana e proficua collaborazione. Nel Centro di ricerche storiche di Rovigno io ho trovato, fin dal mio arrivo in Croazia, una delle prime visite che gli ho fatto, un centro propulsore di ricerca, di studio, di italianità, a cui con questa mia presenza voglio in particolare rendere omaggio. auguro a tutti una presentazione certamente di sicuro interesse in un luogo spiritualmente così nobile e così elevato. Alla cerimonia hanno presenziato il deputato Cnia al Parlamento, l'onorevole Furio Radin, il console generale d'Italia a fiume Davide Bradanini, il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremul, il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Marin Corva, la vice sindaco della città di Pola Ivona Mocinic, il vice sindaco della città di Pola Bruno Cerniul, il segretario generale dell'Università Popolare di Trieste Fabrizio Somma, il console onorario a Pola Tiziano Sosic, l'assessore alla cultura della città di Pola Lena Bradulic, il sacerdote Fra Giuro. Presenti anche gli amici e i colleghi dell'autore. Come eccezionali i risultati che il CRS da oltre 50 anni raggiunge per far conoscere e diffondere la storia non solo della comunità nazionale italiana, ma di questo territorio, la storia di questi paesi, raccontando in maniera oggettiva, documentata, i fatti storici. e lo fa da tempi in cui la democrazia non c'era, lo fa adesso che la democrazia c'è, lo fa adesso in cui c'è la democrazia, ma in cui sappiamo che la falsificazione della storia è uno dei importanti cancri di questa nostra società. e lo fa appunto raccontando in maniera oggettiva, documentata, seria, come fanno le istituzioni serie. Noi non possiamo che essere orgogliosi di avere il Centro di Ricerca Storica di Rovigno, credo che questa regione, questi paesi, questo paese non possa che esserne orgoglioso, così come sono certo, l'ha detto prima l'ambasciatore, è orgogliosa anche l'Italia. Quindi continuiamo a sostenere le nostre istituzioni, in questo caso il CRS ma tutte le altre istituzioni, continuiamo a fare comunità, continuiamo a costruire unitarietà, continuiamo ad affermare la presenza di lingua, di cultura, di identità italiana, continuiamo a farla di quello che è rapporto di dialogo interculturale con le altre componenti di questo territorio, orgogliosi e fieri della nostra identità, nazionale e di tutte le altre identità che ognuno di noi può avere. Complimenti al Centro di Ricerca Storica per questo nuovo risultato e sono certo che anche nel corso del 2022 ci riserverà tantissime belle e importanti sorprese. Grazie. L'opera monumentale di Atilio materializza in maniera esemplare la tesi di dottorato di ricerca dell'omonimo autore. Lo scopo dell'incontro inoltre è stato di celebrare la riuscita di un impegno editoriale eccezionale. Le persone con disabilità sono la minoranza più numerosa al mondo ed appartengono anche al gruppo delle persone con difficoltà di impiego. L'impossibilità di trovare lavoro e scuola mette le persone con disabilità in una posizione poco invidiabile. Ecco perché la ZACLA da Istra Fondazione Istria sta attuando un progetto volto a rafforzare i gruppi vulnerabili per un'occupazione più facile. Nell'ambito del progetto vengono condotti corsi di formazione gratuiti otto in tutto che coprono varie aree competenze comunicative, lingua inglese, informatica, competenze della presentazione, della vendita e del lavoro. All'inizio di maggio, nella sede dell'Associazione dei non udenti e con problemi d'udito della regione istriana, si è tenuto il primo seminario sulle abilità di base. Il seminario è stato realizzato dall'Università di Opter di Pola. È stata una sfida perché i partecipanti avevano danni fisici differenti tra loro. Il workshop è stato realizzato dalla professoressa Elena Kish ed anche lei è stata soddisfatta della sua prestazione. Il miglior indicatore di come invece si sentivano i partecipanti è che hanno già fatto domanda per il prossimo workshop. Il programma dei workshop può essere trovato sul sito web zaposliosiistria.hr. Se appartenete a un gruppo svantaggiato o vulnerabile e volete essere coinvolti nella ricerca attiva di un lavoro, potete contattare la Fondazione Istria, che è un partner del progetto. Vogliamo mostrare i nostri risultati alla comunità e vogliamo anche incoraggiare altre persone che hanno tale difficoltà che lavorare e trovare lavoro è possibile. È molto importante che durante questo progetto motiviamo le persone dei gruppi svantaggiati e vulnerabili a farsi coinvolgere e credere di più in se stesse. Il progetto, con un valore complessivo di oltre 2.200.000 cune, è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il programma operativo Risorse Umane Efficaci e nell'ambito dei meccanismi ITU per l'area urbana di Pola. La comunità italiana in Croazia e Slovenia continua a sfornare talenti. Abbiamo conosciuto Lora Pavlitic e Krista Marosic, due giovani connazionali cantanti lirici che ormai stanno attirando l'attenzione grazie al loro straordinario talento. Lora Pavlitic, la giovane e talentuosa cantante lirica attualmente dirigente del coro misto presso la comunità italiana di Isola e del coro misto giovanile a Trieste. In Istria dirige il coro della clapa Oleum. Ricordiamo che è stata la direttrice del gruppo vocale femminile Ad Libitum di Verteneglio con il quale si è esibita in Istria e oltre confine in Austria, Svezia, Italia. La sua passione per la musica è maturata nel corso degli anni, sin dalla prima infanzia. La passione mia per canto è nata quando io avevo sei anni, anzi già da prima, appena nata subito mi hanno detto questa sicuramente sarà cantante. e poi ho cominciato a studiare a scuola di musica qua a Pola, poi mi sono trasferita a Zagabria dove ho finito la scuola media per canto e per direzione, anzi per teoria musicale. e questa passione di studio, di conoscenza, della voce, di poter essere sempre, di far meglio, di cantare, è andata, continuava avanti. Poi mi sono trasferita a Trieste dove ho compiuto i studi ho finito il bienio di canto lirico frequentavo anche direzione corale perché dal canto è nata anche la mia passione di dirigere e trasmettere un po' del sapere che avevo raccolto. a 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 canteranno le più famose arie e canzoni napoletane. Noi aspettiamo con impazienza le loro esibizioni sui palcoscenici croati. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo domenica prossima alla stessa ora. Buona serata. a 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